delle associazioni di categoria che qui ringrazio, grazie alla collaborazione delle tante presenze culturali della nostra città. Oltre 200 eventi che arricchiranno la città di Mantua e saranno motivo di attrazione per la nostra città. È un'accensione delle luminarie che quest'anno facciamo in maniera, che facciamo consapevoli della difficoltà di questo momento e proprio per questo motivo ho voluto e abbiamo voluto qua i rappresentanti delle RSU, della IES e della Cartiera Burgo che salutiamo con un grande applauso di tutta la piazza. Siamo consapevoli del momento difficile della città ma vogliamo con le mille luci della città sperare, restando uniti di sperare di mettere in campo delle azioni di rilancio per salvaguardare l'occupazione innanzitutto dei lavoratori che sono preoccupati della loro situazione, questa preoccupazione è la preoccupazione di tutta la città. Ci auguriamo che queste luci che andremo ad accedere portino fortuna a tutti noi, ne abbiamo bisogno, viva il lavoro, viva la città di Mantua, viva questo Natale 2013. Ora con i potenti mezzi dovremo fare questo rito, dobbiamo attendere... Allora 3, 2, 1... Allora 3, 2, 1... Allora 3, 2, 1... Allora 3, 2, 1...